Mentre l'istituzione artistica aquilana cresce sempre di più nei numeri e nei corsi e si afferma come punto di riferimento nel panorama nazionale, l'Open Day messo in campo oggi permette a tutti di conoscere meglio l'attività delle belle arti dell'Aquila. Attraverso una mostra e la possibilità di visitare i laboratori si dà modo di mostrare le attività dell'Accademia anche dopo un anno molto complesso, seppur con molte attività in presenza. Intanto per il prossimo anno sarà fruibile il nuovo padiglione. Abbiamo fatto il bando, è stato affidato l'appalto, un appalto comunque piccolo di circa 50.000 euro, per fare quegli ultimi lavori, quei ritocchi che andavano fatti ormai da anni. I lavori sono iniziati la settimana scorsa, quindi contiamo di ultimarli entro ferragosto. Poi procederemo alla fase di arredo, sia pure non eccessivo, anche perché dobbiamo stare sempre attenti ai costi e col prossimo anno accademico sarà fruibile agli studenti. Questo Open Day ha proprio l'obiettivo di dimostrare che nonostante il difficile anno legato alla pandemia, vogliamo ricordare che dal primo di febbraio comunque sono stati assicurati alcuni corsi in presenza, primo fra tutti i corsi di restauro dove la presenza è fondamentale, ma come potete vedere i ragazzi e gli allievi hanno fatto anche altre cose, pittura, scultura, scenografia, fotografia e quindi questo vuole essere un grande invito ai giovani, ad osservare quello che si fa nell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, che è un'istituzione che appartiene all'AFAM, che ha una rilevanza interregionale ed ha un futuro a chi crede in queste cose. All'interno dell'Accademia è stato possibile visitare ABAC Show Off, l'esposizione di fine anno che coinvolge gli studenti delle diverse scuole, partendo da un totale riallestimento degli spazi dell'Accademia. Nel teatro invece i lavori vincitori del Bando Nuovi Talenti, indetto nel 2020 dal Comune dell'Aquila e dal Comitato Perdonanza. Molto interessanti le tavole realizzate dagli studenti del workshop di fumetto, coordinato dal professor Michael Rocchetti, Michael Lemmirco, che ha permesso di realizzare un fumetto dedicato a Celestino V. Nei laboratori di restauro al momento si sta lavorando invece, con un intervento conservativo, ad alcune opere salvate dai crolli del terremoto di Amatrice. È sempre più importante la collaborazione con altre istituzioni del territorio. Ho incontrato il direttore artistico del TSA, Giorgio Pasotti, e con lui abbiamo incominciato a parlare seriamente di collaborazione, ad esempio, tra l'Accademia di Belle Arti e il Teatro Stabile d'Abruzzo. Ma altre cose stiamo pensando e in effetti sto lavorando alla creazione di un bando per mettere a disposizione il nostro teatro, della città e delle istituzioni.